Il PNRR diventa un'opportunità importante per i comuni, in questo caso Pesaro è riuscita ad intercettare tutti e tre i bandi, i cluster, così si chiamavano del PNRR Sport. Un bando era finalizzato alla realizzazione di una nuova cittadella dello sport ed è quello che abbiamo ottenuto con la realizzazione e il completamento di quello che è l'impianto di ciclo rotellistica e quindi andremo a realizzare anche una serie di strutture di preparazione degli atleti, di arrampicata e quindi uno spazio nuovo nella località Torraccia di Pesaro. Il secondo cluster era quello che consentiva la riqualificazione di un impianto esistente ed interverremo in modo importante sul Diamante, sul Norberto Crinelli, lo stadio di baseball della città allo stadio a Norberto Crinelli. Il terzo cluster invece è l'intervento più importante in termini di risorse finanziarie intercettate, ben 4 milioni ed era questo un finanziamento che era possibile richiedere ed ottenere solo ed esclusivamente in partnership, in collaborazione con una federazione sportiva. Era quindi, è stato importantissimo da qui la scelta della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, di scegliere a Pesaro di realizzare un nuovo centro federale. Quindi Pesaro sarà la sede della nuova federazione, un investimento questo da 4 milioni che ci consentirà di intervenire sul primo piano della piscina di Via Togliatti di Pesaro e andremo anche a realizzare una nuova palestra, una nuova palestra quindi con uno spazio dedicato anche a una sala pesi, nuovi spogliatori e quindi un blocco servizi a supporto della palestra ma anche come dicevo tutta una serie di spazi invece nel piano primo della piscina ambulatoriali, fisioterapici e quindi a supporto proprio della realizzazione della nuova sede della FIP. Una grande opportunità per Pesaro che quindi, per la quale Pesaro è sempre più città del basket, città dove si respira la pallacanestro e che persino la federazione ha riconosciuto e ha premiato con questo importante investimento che andremo a realizzare nei prossimi mesi.